allora amici una cosa veloce c'è stato adesso l'evento apple in cui hanno presentato tutta una serie di cose ma la cosa che l'aspetto a cui tenevo di più ed è quello di cui vi voglio parlare molto brevemente è questo cioè l'ipad fino a ieri era un mondo chiuso cioè lo è lo è ancora voglio dire ma ha rappresentato un mondo chiuso con una serie di complessità ovvero il mondo ios con i suoi limiti cioè ricordiamoci che su un mac io posso installare tutto quello che voglio ok di fatto supero delle limitazioni che mi danno per sicurezza ma posso installare quello che voglio mentre sul mondo ios no cioè non posso installare tutto quello che voglio devo installare tutto quello che apple mi consente di installare e fino ad oggi il mondo professionale quindi chi produceva non tanto i contenuti come dire base cioè vuol dire testi foto eccetera ma per esempio già video per esempio già software che non necessariamente solo per il mondo apple ma magari per altri mondi e così via deve usare per forza mac e questo mondo era piuttosto ampio solo che il mac dal punto di vista tecnico per apple è come dire è un po meno proficuo perché le macchine le vende ma ha il grosso problema di ovviamente non poter limitare gli utenti a vivere dentro il loro store pensate ad esempio al fatto che quando io acquisto qualcosa dentro lo store di apple quindi dentro il mondo ios io devo dare cioè se io sono un'azienda scusate vendo qualcosa e faccio acquistare qualcosa io devo dare una quota ad apple tant'è pensate ad esempio il mondo di fortnite che è stato eliminato perché aveva la sua politica di prezzo con cui insomma apple voleva che si passasse solo da lì mentre loro non passavano solo da lì e quindi ecco che non c'è più perché altrimenti avrebbe potuto come dire no bypassare le regole restrittive dello store di apple che dentro ios che appunto è questo sistema quello con cui girano appunto l'ipad e l'iphone avrebbe avrebbe come dire no lì e invece è limitato e allora io posso usare per farvi capire per esempio fortnite su mac ma non posso usarlo dentro ios perché su mac posso fare un po quello che mi pare e quindi c'è un mondo di professionisti che per ora poteva produrre solamente con mac ora cosa hanno fatto hanno fatto questo ipad potentissimo che di fatto è un computer potente con un computer con dentro addirittura lo stesso processore di un computer prima avevano processori del mondo mobile ok adesso arriva anche i professori del mondo non è più mobile m1 è un processore da computer è anche molto potente che ha fatto la rivoluzione l'han ficcato lì dentro perché è qui che volevo darvi la visione l'han ficcato lì dentro perché in questo modo rimane il mondo chiuso della apple quindi con il loro store con tutto quello che vuoi deve passare da loro deve passare dal punto di vista anche economico e si portano a casa anche tutta la fascia una grande fascia di profession non tutta tutta perché ovviamente già io che utilizzo per esempio final cut non riesco a non posso ancora passare in quel mondo ma se fosse come dire se utilizzassi se funzionasse final cut probabilmente avrei potuto farlo e sicuramente c'è un mondo di professional ok che non è tecnico non è geek non ha voglia di smanettare e ne vuole solo usare il mac in qualche modo è sicuramente un computer meno usabile sapete bene che se io do un computer un mac in mano a un bambino di due anni non sa che fare probabilmente non riesce neanche a far aprire una finestra se invece do un mac un ipad a un bambino di due anni riesce a usarlo ecco come dire quindi questa usabilità si va a toccare anche tutta quella fascia semiprofessionale che oggi è grossa è tanta roba perché stiamo parlando di un mondo che produce foto che produce contenuti immagini sempre più complesso perché la multimedialità oggi che è richiesta è sempre più complessa pensate ai video di tik tok con tutti i vari effetti a quelli con la realtà aumentata eccetera eccetera quindi non è più una fotina è un testo oggi c'è molto di più in quello che si produce ed ecco perché apple con questa mossa ci sono ipad che arrivano a costare adesso 1900 pound cioè credo in euro non ho visto ma insomma più di 2000 più di 2000 euro 2000 passare un ipad perché ovviamente è potente in un modo esagerato ok più esagerato del normale quindi dice perché motivo perché hanno fatto un ipad così cioè alla fine è potente come un macbook pro di attuale con l'M1 come mai è per cominciare a fare quella roba e a me questa cosa preoccupa tantissimo anche se utilizzo i loro prodotti perché ovviamente la strada mi pare abbastanza segnata cioè vuol dire che io non so quante altre versioni di macOS arriveranno a questo punto perché ci sarà un momento in cui macOS cioè il mondo computer sarà obsoleto sarà lontano lo renderanno obsoleto e ci troveremo a vivere solamente all'interno del app e quindi ecco che anche gli più smanettoni come me che per certi aspetti vogliono stare comodi all'interno di un mondo come quello di I.O.M. vabbè non ci voglio pensare almeno le cose funzionano dovranno di nuovo uscire ma siamo una fascia molto stretta cioè molto stretta che tuttora non vive il mondo Apple ma altri sì anche quelli come dire ma sono quelli che producono meno soldi perché sono quelli che poi alla fine comprano meno non è l'ho